Mi sembra di rivedere questo spirito, questa voglia di fare. Ci siamo un po' sbloccati e dopo questo risultato io spero che faremo delle prestazioni positive come quella di Esma, non perché abbiamo vinto, proprio come spirito, come combattività, come ripartenze, generosità. Era questo che cercavo. Sbaglia, rimedia, ma soprattutto lotta e alla fine ottiene risultati. Reia ragiona a gongolare dopo tre vittorie a un pareggio da quando ha ripreso le redini della barca biancoceleste. Nella sua Udine la Lazio ha sfatato dopo oltre otto mesi il tabù trasferta. Poi è arrivata una vittoria, ben chiaramente a casa mia, però sapete che ho qualche simpatia per l'udinese per quanto riguarda i miei affetti sportivi. Due volte sotto, in dieci, per quasi un tempo, la Lazio è rimontato con un pizzico di fortuna e colpito allo scadere con Hernanes, l'uomo più discusso in campo e fuori delle ultime settimane. Guarda Hernanes, sei da fare i complimenti, sai perché? Perché io prima quando faccio la formazione, che li riunisco per vedere come giochiamo, lui non c'era negli undici, ed era seduto lì davanti. E io poi alla fine, che gli ho dato la carica, così a tutti quanti, lui si è alzato, ho stretto i puni e ha dato la carica ulteriore anche a lui, come per dire, dai andiamo che la vinciamo. E questa è una roba straordinaria secondo me, e di fatti gli ho stretto la mano e ho detto, bravo, guarda, tu questo sei il vero Hernanes. E del profeta ritrovato, giunto al suo 41esimo gol aziale in quattro stagioni scarse, ha parlato anche Lotito, chiudendo all'ipotesi di una sua cessione nei prossimi 15 giorni. È un ragazzo d'oro e non vogliamo venderlo, non certo per 17 milioni, ha assicurato il patron, che quando parla di proposte indecenti non usa iperboli. Lotito ha anche smontato il caso Marchetti. Qualcuno, apprendendo dell'influenza che lo ha messo KO proprio ieri mattina, aveva adombrato la possibilità che il portiere azzurro fosse in realtà finito e rotta di collisione col club per questioni di mercato. Assente ormai dal 22 dicembre, Marchetti dovrebbe rientrare per Lazio Juve di sabato, gara che oltre alle oggettive difficoltà tecniche, alle montanti polemiche ambientali, ci sono tifosi laziali che preferirebbero una sconfitta pur di fare un dispetto ai cugini romanisti, costringerà comunque Reia a rivoluzionare di nuovo l'undici a causa delle assenze, tra squalifiche e infortuni, Dionazzi, Lulic, Radu, Ederson, Gonzales e Conco. Mi dispiace perché la Juve ci tenevo a fare una partita di carattere, di livello, si può sempre fare.